di Villa che si rialza e fuori misura. Sicuramente l'azione più pericolosa o perlomeno la più incisiva su questa palla è stato Bravo Rubio ad indicare il passaggio, ecco la vediamo, un buon vasoterra e buona anche la conclusione e altrettanto bella la risposta, la risposta di Zenga e forse in tutta la partita o in tutto questo secondo tempo in modo particolare è stata l'unica vera occasione che ha avuto il Belen. Serena ancora tutto solo, completamente solo il tocco su Cusin nel 5-0. Esatto, con Villa l'abbiamo visto l'altra parte tentare una rovesciata, ma probabilmente non per Villa che sicuramente è stato uno dei più generosi, uno dei migliori in campo, dopo l'azione conclusa nessuno è rientrato, Serena probabilmente